Allora, se volete farlo seguire un pochettino, su Lungano si va di qua. Ora, io prendo un po' di polvere magica, facciamo un po' di là, io ho una pallina nella mano e tu ne hai una. Con la polvere magica, ti ha sentito qualche cosa? Gira la mano, le facciamo? Quindi, due palline, prendo sempre la mano, chiudi, giro, fanno sempre un po' di polvere magica. La vedi? La pallina, la metto qua, un po' di polvere magica, due palline in mano, più quella che è immaginaria, quante dovreste averle in mano? 3. Facciamo così, una pallina qua, due, la terza la metto in tasca. Quante palline abbiamo in mano? 2? Sicuro? No, perché questo è il gioco delle tre palline. E' in mano avrà. Ti la seconda? No, rifacciamo. una pallina la metto qua. La seconda la prendo, la metto qua. La terza la prendo, la metto qua. E questa la metto in tasca. Ok? In mano quante palline abbiamo? 3? Prima. Prima erano 3. Adesso il gioco è finito. Grazie. Grazie. Grazie.